Cita il Vangelo Monsignor Giampaolo Crepaldi analizzando la situazione internazionale drammatica. La voglia e la necessità di giungere quanto prima alla pace, ha riflettuto ieri sera l'Arcivescovo di Trieste nel corso di un'intervista andata in onda durante Ring, sono parte integrante dell'essere cristiani. La prima cosa che Cristo annuncia dopo la sua risurrezione, quando incontra i suoi discepoli, è la pace. La prima cosa che dice ai suoi discepoli è pace a voi, per cui la pace è veramente nel DNA costitutivo fondamentale dell'esperienza cristiana. Il presule quindi ha fatto riferimento a ciò che la diocese di Trieste ha realizzato in ottemperanza a quanto predisposto dalla Santa Sede per far sentire alle popolazioni aggredite dall'esercito russo la vicinanza della comunità cristiana. Da un lato la consacrazione rinnovata di Ucraina e Russia al Sacro Cuore di Maria, dall'altro la solidarietà dei triestini. La risposta della città di Trieste, della Chiesa Cattolica, ma devo dire della città di Trieste, è stata sorprendente. Veramente Trieste, un cuno una volta, ho avuto la possibilità di toccare con mano, è una città che ha un cuore buono. In un contesto drammatico, qual è quello internazionale, le questioni più strettamente cittadine rischiano di sembrare meno importanti. Tuttavia, Monsignor Crepaldi ne ha ugualmente trattato, quasi facendo propri alcuni allarmi, non di carattere generale. Abbiamo un problema qua, che è quello legato alle politiche economiche, quindi del lavoro, dello sviluppo, eccetera. E' un problema che è presente anche a Trieste. Io non so come andrà a finire, per esempio, con la Varsila. Quindi abbiamo, dico io non so se a Trieste potremo garantire il futuro di questa città, giocando solo la carta del porto o la carta del turismo. La sensazione che ho che a livello di amministrazione comunale e soprattutto di amministrazione regionale stia facendo uno straordinario sforzo, però, è un po' il governo nazionale che deve essere capace di dare risposte. Va bene l'assistenza, l'assistenza risolve il problema immediato, ma non quello complessivo.